Ciao a tutti e benvenuti a Flavio Land, io sono Flavio Algozzino, un architetto e insieme a voi in questo video vorrei costruire un castello o meglio un parco divertimenti a forma di castello che ho immaginato per una serie di romanzi per ragazzi che sto ultimando di scrivere, ho unito la passione per i castelli, la passione per i pacchi di vettimento e la terza passione che è la scrittura in un unico progetto, ho pensato di trasformare in realtà virtuale il castello che avevo immaginato su carta e rendervi partecipi di questo processo di sviluppo, di creazione di un castello da zero, è stata una sfida un po' ardua all'inizio, io ho dovuto pensare ma come posso partire nella progettazione di un castello, è un'operazione ormai anacronistica, ok? Però essendo un ghioco non mi sono tirato indietro e ho provato a cimentarmi in questa esperienza e sono partito dalla cosa più importante di tutte, ovvero dall'essere umano, dai bisogni, dalle funzioni, dalle dimensioni dell'essere umano. Da questo sono partito nella realizzazione della sala della torre maestra, che è l'elemento principale di tutto il parco di vettimenti in cui è ambientata la storia. Una torre alta ben 85 metri, ubicata nelle campagne scossesi, una città immaginaria dal nome di Stone Town e mi sono ispirato alla sala centrale della palassina di caccia di Stupinigi, un gioiello del barocco di Filippo Juvarra, un architetto siciliano. Sono poi passato all'esterno della torre, nel suo sviluppo in altezza, fino a 85 metri. Abbiamo una merlatura con doppio ordine e una copertura conica con tanti abbaini. Questi permettono di farci creare la luce all'interno di un grande ambiente, la biblioteca della torre. Questo bellissimo spazio in cui la luce entra esattamente come fa la cultura. La luce illumina e quindi la cultura illumina le nostre menti. E poi al culmine della torre abbiamo una lanterna che anch'essa permette l'accesso alla luce e quindi l'illuminazione e dunque la libertà. Ok? La conoscenza è libertà. Dopo aver sviluppato in altezza la torre, sono passato a tutto ciò che sta attorno alla torre, al vero e proprio parco di vettimenti, a questo cortile di 170 x 170 metri, una corte quadrata, intorno alla quale si sviluppano quattro prospetti. È stato un po' complicato formulare una facciata che non fosse banale ma neanche troppo carica di elementi. Ok? Quindi dopo varie prove, alla fine credo di aver trovato un giusto bilanciamento sulla base di uno stile gotico, neogotico, quindi con questi archi oggivali molto pronunciati su tre livelli. Piano terra, primo piano e l'ultimo piano di coronamento, da cui è possibile ammirare la torre a 360 gradi. Bene, questo corpo quadrato che si sviluppa attorno alla torre è alto 25 metri e 50. Perché 25 metri e 50? Perché è legato all'altezza della torre. La torre è alta 85 metri. Se noi dividiamo 85 x 10 abbiamo 8,5. 8,5 x 3, che sono i livelli del castello, abbiamo 25 metri e 50. Dopo aver sviluppato i prospetti interni e la corte, sono passato all'ingresso, a capire un po' come poter realizzare un ingresso e una facciata principale del castello che fosse importante. Quindi volevo che la torre si vedesse anche dall'esterno, nella sua eleganza e magnificenza. Ho pensato di realizzare un ingresso che non fosse su uno dei quattro lati del quadrato, ma su uno dei vertici, ispirandomi al palazzo dell'Arsenale, che si trova anch'esso a Torino, realizzato in parte da Filippo Iuvarra. Quindi il posizionamento su uno dei quattro vertici del quadrato cosa permette? Permette la formazione di forze centripete e centrifughe all'interno del cortile. C'è una prospettiva che avvolge la torre e che coinvolge al meglio lo spettatore e accentua la presenza della torre al centro. E ho pensato di formulare un ingresso che non nascondesse la torre dall'esterno, ma che appunto la esaltasse. E quindi ho posizionato una serie di torri di varia attessa fino a poter culminare appunto nella torre centrale, a formare una sorta di rombo che dall'ingresso va a culminare sulla lanterna della torre. Dopodiché sono passato alla realizzazione dell'esterno con la distribuzione delle varie ali del castello che possiamo immaginare come i serpenti della testa di Medusa, quindi ali disordinate che si diramano verso l'esterno senza un vero e proprio ordine. Queste ali ospitano le varie accrazioni del parco di vettimenti, quindi montagne russe, duck rides e tante acre accrazioni. Dunque per mantenere una certa libertà nella realizzazione di accrazioni di qualsiasi tipo, l'esterno del castello è lasciato a un quasi libero albicrio. Bene, ho inserito anche un fiume circolare intorno al castello come se costituisse i binari del creno di Disneyland. A Disneyland è presente un sistema che permette di raggiungere le varie aree del parco attraverso un creno. Ebbene, in questo caso ho immaginato delle barchette che percorrendo questo fiume permettono di raggiungere varie parti del castello senza dover percorrere chilometri a piedi. Dopo aver modellato in grosso modo il castello, chiaramente è incompleto, è solo uno sviluppo di massima, ho fatto delle prove con Twinmotion, questo motore di rendering che permette appunto di vedere un po' il risultato finale, giocare con il clima, il meteo, fare piovere o far nevicare e quindi immaginare un po' di entrare nel castello e di viverlo. Infatti è possibile effettuare sia una visione agrone ma anche una visione videogioco, quindi come se noi camminassimo effettivamente nell'ambientazione. E quindi spero che con questo video vi sia venuta voglia di fantasticare e di creare dei mondi immaginari con software gratuiti come SketchUp e Twinmotion per poter dare fuoco alla creatività. Ok? Quindi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, se vorreste vedere un continuo di questo video essendo in corso d'opera. Spero di poter utilizzare questa ambientazione per un eventuale book trailer di promozione di questa trilogia e se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo a un prossimo video a Flavio Lende. Ciao, grazie! Grazie!